Nonostante il periodo natalizio sia ufficialmente iniziato, a Como si apre un'altra settimana di lavori stradali. In arrivo nuovi cantieri e limitazioni alla viabilità. Si parte lunedì 11 e martedì 12 dicembre dalle ore 9 con gli interventi in Via Carzo, in Via Valleggio e alla rotatoria di Via Carzo e Via Valleggio per lavori di asfaltatura con il rappezza a caldo del manto stradale. Si procede ancora nella giornata di mercoledì 13 dicembre, sempre dalle ore 9 con i lavori al manto stradale di Via Palestro, tratto Viganò, Via De Mille, Via Leoni, tratto Via Magenta, Via Viganò, Via Canturina, tratto di parcheggio dal Civico 27 al 37. Infine scatteranno anche i lavori nelle ore notturne, come quelli previsti nelle giornate di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, a partire dalle ore 22. Le strade interessate sono Muggiò, Oltre Colle, Donatore di Sangue e nel tratto di via del lavoro in direzione Via Tentorio, Via Scalabrini, con la chiusura del ponte.